Assessore, un importante evento per Premia e per le sue Terme? Sì, assolutamente importante. Diciamo che le Terme sono un luogo d'eccellenza della nostra provincia e quindi ben volentieri abbiamo accettato che la tappa del Giro d'Italia femminile internazionale partisse proprio dalle Terme di Premia, che tra l'altro in questi giorni sta diventando un po' il clou degli avvenimenti sportivi e culturali dell'estate e questo ci fa enormemente piacere. Ecco, speriamo che abbia lo stesso effetto che aveva avuto la cascata del Tocce nel 2003 che ha portato a conoscere la valle in tutta l'Italia. Proprio stamattina, parlando con gli addetti ai lavori, ho scoperto che parecchie persone che pur abitavano nelle province limitrofe non conoscevano le Terme, quindi sono assolutamente speranzosa che questo evento porti un nuovo afflusso di energie importanti.